La storia di Samuele era tristissima quando sono morti in suo territorio. La storia era triste, bella e importante per ricordare. E a me è piaciuta. Samuele ha trovato gli oggetti che il suo papà aveva nascosto per un anno. La storia era triste perché c'era la piena. E tante persone sono morte. Anche la storia del figlio era bella. C'erano delle parole importanti. Amore, pace, umanità. Con le colleghe del team si è deciso di leggere agli alunni di tutte le classi il libro L'albero della memoria di Anna e Michele Sarfuatti. Dopo la lettura i bambini sono stati invitati a riflettere e ad esprimere con disegni e parole le emozioni che hanno provato durante l'ascolto. Il secondo lavoro è stato la lettura del brano quando Hitler rubò il coniglietto Rosa. Grazie. 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 Grazie.